ciao a tutti bentornati sono Sierra allora stavolta elaboro la Aston Martin V8 Vantage S col kit extreme allora innanzitutto ci tenevo a salutare Francesco Almasio che ha un canale youtube o anche denominato leggenda leggenda bug metterò il link in descrizione vi invito a iscriversi al suo canale e a mettere mi piace e seguire i suoi video è un canale di informatica niente iniziamo con la elaborazione auto sono sempre indeciso di cavolo di cofani ok questo va bene alettone forse mi fa così perché l'alettone me lo mette sotto tipo quelli sotto il sopra baule quelli che si alzano non lo so allora specchietti questi cerchioni sono troppo belli per per essere buttati però questi sono belli però vediamo quelli ufficiali eh no 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 tengo gli ufficiali mi interessa se non va bene cambiate di voi allora minigonne queste parafango parafango ma non c'è mai niente spoiler spoiler posteriore uno due oltre quattro questo dai non so perché a me mi piace per quel deflettore sotto l'auto che serve per tenere l'auto incollata alla strada poi non gioco tutte cagate allora prima quando voglio vedere dietro mi fa vedere davanti quando voglio vedere davanti mi fa vedere dietro allora questa volta prendo l'auto con le pinne l'auto con le pinne sono in carbonio di questo colore non so perché ma mi piace così colore che bella nera mamma mia bel nero metallizzato ma beh però cavolo io ho anche ho anche messo il cofano in carbonio quindi sono due color differenti bel verde british ci starebbe questo è verde boh così e poi con un adesivo magari dell'inghilterra animali bandiere se ce l'hanno in inghilterra è perché ovviamente questa non c'è porca di quella troia no no forse sono troppo in fondo no non c'è un cazzo non so perché boh forse proprio il kit che ha ah che bello così allora rimaniamo sul racing non so perché non c'è niente boh forse proprio come dicevo break it stream o anche questa uh che bella tribali ma che vintage ok allora ne ho su tribali questa va benissimo ok vediamola all'aperto rom 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 si classico stone martin così la plancia no no veramente bello allora anche qua che bella si dai questa è uscita bene si 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 come già detto vi invito a iscrivervi al canale di francesco almasio che ho messo in descrizione nell'info box e a visitarlo e mettere i suoi mi piace quello che volete spero che vi sia piaciuto questo video vi invito a iscrivervi anche al mio canale per non perdere i prossimi video grazie a tutti per aver seguito alla prossima ciao ciao ciao